A chi deve ficare uno spillo nel popò? Alla Scharvenka, una contessa polacca che ha ripudiato gli eleganti salotti della nobiltà per dedicarsi agli spettacoli in einai. Senti, che bella voce. E tu le permette di fare questo chiasso? Se si diverte, perché no? Ma potrebbe arrivare la polizia. Bene, così me ne libero. Deve essere matta per fare questo pandemonio. Stefanie può essere in pericolo. Ti senti spinto ad intervenire? Sì, certamente. No, 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 no. Non siete solo a Sartoria di Parigi. Ma io sono ottima pubblicità per la casa che mi serve. E chissà mai perché sono venuta da Roberta. Vuole piantarla di spingermi. Oh, io le chiedo scusa, ma... Lei non può comportarsi così. Ma che bello ragazzone robusto. Si sente lei forte. Non se la prenda. Donne latine non sentono che urla. Latina o no, comunque, le sue urla non mi fanno nessun effetto. Aspetti. Non metterò mai più piede qui dentro. Non immagina come mi hanno trattata. Quella vecchiaccia ripugnante. Avida come sangui suo. Ehi, piano, guardi che è mia zia. Oh, ma io non parlava di lei. Lei vero genio. Ma quella strega che dirige Sartoria, quella Stefanie... Stefanie è una bomba. Ma no. Lei è suo amante? Mai visto un posto come questo. Incredibile. Qui tutti pensano ad essere l'amante di qualcuno. Perché lei non l'ha mai pensato.